In Piemonte la partecipazione alla didattica a distanza è stata elevata, ma solo uno studente su due si è dichiarato abbastanza soddisfatto di come è stata organizzata nella propria scuola. I risultati emergono da un'indagine svolta da Ires Piemonte nell'ambito del tavolo tecnico costituito ad aprile per iniziativa della Regione Piemonte su benessere, disagio scolastico e dispersione. I risultati sono stati presentati oggi al Salone del Libro di Torino nell'evento Nessuno mi chiedeva cosa pensavo io, a cui ha partecipato l'assessora all'istruzione della Regione Elena Chiorino. Alla ricerca realizzata da Ires Piemonte in collaborazione con il settore istruzione della Regione, l'ufficio scolastico regionale e l'ordine dei psicologi hanno partecipato oltre 8.300 giovani, l'11% della popolazione studentesca. Il 77% di loro ha dichiarato di aver seguito tutte le lezioni per una media di 4 ore al giorno, ma il 38% non ha amato questa modalità definendola noiosa. Hanno lamentato la mancanza di dialogo e la mancanza di poter effettivamente avere un confronto sia in classe sia con i loro insegnanti. Il confronto è fondamentale per i ragazzi per poter crescere, potersi strutturare e per poter capire come vogliono posizionarsi nella società. È stata una carenza rispetto alla quale in qualche modo bisogna lavorare per rimediare. Tra le note dolenti, l'organizzazione del tempo e i problemi tecnici, ma anche la mancanza di uno spazio per sé a casa. Uno studente su tre vorrebbe la DAD limitata ai casi di emergenza, solo il 25% la vedrebbe integrata in condizioni di normalità. L'importanza dell'ascolto empatico dei giovani è stata al centro dell'incontro con Sandro Marenco, il social prof, che stamattina ha partecipato a uno degli appuntamenti del book club inseriti nel calendario del sistema regionale di orientamento. Portare l'orientamento al salone del libro vuol dire evidenziare l'importanza e il ruolo fondamentale che è una politica di accompagnamento sia all'istruzione sia alla formazione, ma poi anche nei passaggi successivi del mondo del lavoro deve essere alla base di ogni programmazione politica che si occupi seriamente del futuro dei nostri ragazzi.